L'anno di Virtus Verona e Atalanta Under 23 comincia con uno scontro diretto in zona playoff. Atalanta quinta a quota 30 punti, Virtus Verona ottava a 28 punti. Influenza a Zingonia che cambia le carte di Mister Modesto in attacco dei nipoti con Cortinovis, mentre Fresco sceglie il tandem. Casarotto-Gomez, primo spunto dei nipoti, offre per Sisse in area. Il sinistro viene contratto addirittura da Casarotto in ripiegamento difensivo. Poi punizione per la Virtus Verona, ci prova Juanito Gomez, destro che non scende e non impensierisce il portiere Vismara. E' un primo tempo denso di contrasti, azione della Virtus Sponda per Casarotto in area. Casarotto, Vismara con una grandissima uscita. Tampona l'attacco del numero 9 della Virtus Verona. Poi al 41esimo corner di Manfrin libera la difesa. Tentativo di Casarotto, tiro cross su cui Vismara è molto attento. Punizione dal limite, Gomez lascia a Casarotto, devia la barriera. In questa situazione fallo di Dell'Ungo. La Virtus Verona voleva un rosso che non c'è stato. Minuto 54, break di Mouameti, sinistro del set dell'Atalanta. Oggi all'esordio tra i professionisti. La parata facile di Sibi. Virtus Verona all'improvviso guizza con Casarotto. Sinistro che sfiora il palo. La classica azione di Casarotto che però non riesce a gonfiare la rete. Cortinovis per il calcio di punizione. Palla tagliata. Sisse deve volare Sibi. Si distende e allontana la minaccia. Poi ancora da calcio d'angolo. Stacca sempre Sisse. Palestra destro. Palla alta in mischia. L'Atalanta sfiora il vantaggio. Vantaggio che arriva al 72esimo. Mouameti, il debuttante, trova il taglio di Ghislandi. Destro. Battuto Sibi. Terzo. Gol in campionato per l'ex Triestina. Grande palla di Mouameti. Perfetta la conclusione di Ghislandi. Assista al bacio. Controllo dell'esterno che incrocia e batte Sibi. Reazione vehemente della Virtus Verona. De Mirovic. Sinistro ancora a un passo dal palo. Virtus Verona che sfiora il pareggio. Poi tante mischie della squadra di Fresco. Questa con Juanito Gomez che non trova la porta ma commette anche fallo ai danni di un difensore dell'Atalanta. Nel finale c'è ancora tempo per un guizzo di Capone entrato dalla panchina. Sibi e forse anche il palo. Gli negano il gol. L'ultima azione del match. L'Atalanta under 23 e spugna il Gavagnin Nocini. Batte 1-0 la Virtus Verona. Grazie al gol di Ghislandi.